Una domanda così al volo, cosa ne pensi di questo corso? Fortemente motivante e dà diversi spunti di riflessione, anche se avevo letto già i libri. E dall'11 che farai? Ti dà la carica, insomma, per applicare un po' tutti i principi che da sempre magari pensi siano validi, ma non hai mai il coraggio di cominciare a mettere in pratica. Un voto da 1 a 10 a questo corso? Sicuramente 10.